Ben ritornosco su Lion Lab! E' bellini come siete oggi? Siete formosi oggi, eh? Avete mangiato bene? Si vede, si vede, si vede. Non grassi. Formosi, in senso, belli rotondetti al punto giusto, bellissimi. Allora, cosa facciamo oggi? Scolpiamo delle facce belle rotondette come la nostra, no? Guardate un po' qua, giochino. Perché? Perché, non so, ultimamente fare le reaction qui su Lion Lab non trovo cose belle. Cioè, i video di il mio amico, no, vi ricorda? Milker, molto belli, anche quelli del tempo Nauta, no? Che facevano gli slow motion, belli, però? Facciamoci un giochetto oggi, dai che ci va. Bisogna modellare la creta, vedi come l'ha impasta il signore con le sue mani strane? Perché in questo gioco qui dobbiamo creare delle facce. Forse, non so dirvi se questa cosa è una mia invenzione o è vera, però potrebbe essere che dobbiamo creare quella faccia che c'è là dietro. Quello zorro lì, eh? Quello zorro è, muah, proprio bello. Allora, vediamo un po'. Così? Che sto a fare? Eh, ma è bellissimo! Ho fatto bene, eh? Eh sì, vedi, perché devo essere preciso col mio bastoncello. Però è un bel gioco, mi piace questo gioco. È simpatico, no? Poi che dobbiamo fare? La mascherina? Se lui dobbiamo... No. Sto rompendo tutto. Lo sto rompendo, secondo me. Cioè, da un certo punto di vista sembra che sto a modellare bene. perché ha preso l'aspetto della testa, no? Più o meno. Eh, vedi, 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 vedi. Come ho fatto a fare sta cosa non ne ho idea. Sì, secondo me è lui. Vedi che gli ha messo la mascherina. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? È proprio quello lì che c'è lì dietro. Lo dobbiamo sbruzzare, così. Oh, questo gioco è bellissimo, eh? Ma è veramente bellissimo. Pure i baffi, così. Io quando ero... Quando avevo pochi anni, tipo due anni, no? Facevo le sculture io con la creta, proprio così. Ed ero bravissimo. Fatto? Perfetto. Capito? Mi chiamavano il grande scultore, l'Ionio. Incredibile. Eh, moglie, dobbiamo mettere gli occhi. Vedi com'è? Perfetto. Le tre chic bellissime. Poi, il cappello... No, questo è un orecchio. Bello. Eh, come me pazzerello. Voilà! Le... Le arte bellissime! Beh, adesso facciamo una prossima. Allora, abbiamo avuto creatività, accessori, tutto. Abbiamo fatto un lavoro sopraffino. E il regalo io non lo voglio. Perché so che poi mi impartono le pubblicità e ormai io non mi faccio fregare più. Questi giochi ci hanno provato, ma no. No grazie, bisogna imparare. Vedi, c'è una cosa buona in questi giochi mobile, pieni di pubblicità. Ti insegnano a dire no grazie. Perché non è che tu devi essere una di quelle persone che... Che è sta roba? Ed è cambiato il gioco? Cosa vuol dire? Che devo fare? Verde! Non la posso fare verde. Devo farla rosa, perché lei è rosa. Ma devo fare quella bambina lì dietro. Difficilissimo! Eh, tu non puoi essere uno di quelli che dicono sì a tutto. Cioè, ti dice... Oh, vuoi un pasticcino? Sì! Vuoi una coca... Sì! Vuoi... Sì, sì, sì! No! Ogni tanto devi dire anche no grazie. È buona educazione ogni tanto dire no grazie. Vedi? Adesso noi... Però... Io ci sto a prendere la mano, eh. Cioè, all'inizio ero un po' incerto. Poi, piano piano, invece, ho sviluppato questa capacità che... Vedi adesso come muovo quel bastonchio. Fabilissimo! Questo non so cos'è. Sarà quello di prima per modellare la faccia. Vai! Che ormai ci abbiamo smanciato la mano! Potremmo farla malamente anche, eh. Però mi dispiace perché una bambina... Se quella dopo fa schifo il disegno, allora lo facciamo malamente. Questo che è? Un mostro. Vabbè. Poi la corona... Speciale, però... Eh. Eh, ma non è così. Ci manca il... Eh, eh, eh! Glielo dè! Ci mancava il blush, no? Il rossiccio! Aspetta un po'... Eh, là! Va là! Eh? Posso fare anche i denti, Rosa? Vai che sei più bella di prima! Spaziale! Vabbè, ho smerdato un po' anche... Scusate! Mi dissocio! Cioè, non posso, ve l'ho detto io. Vabbè, comunque ho un po' sminchiato... No, è uguale, anche questo non lo posso dire. Non si può dire niente! Comunque ho rovinato il sopracciglio, ecco. Questo volevo dire. Però, in tutto sommato, non si è accorto nessuno. Non si è accorto nessuno. Non voglio nessun reward, non voglio scrivere una recensione, non voglio il reward. Vedi, devi essere determinato. No, grazie! Provateci anche voi, quando qualcuno, tipo la maestra, vuole dare un professore... Oh, oggi ci sono... No, grazie. Però mi dissocio se poi vi causo dei problemi questa cosa che vi ho detto, eh. Non ve l'ho detto io nel caso. Ah! Che cose dobbiamo fare qui? Non l'ho capito. Ma che devo fare? Devo fare una busta? Ma devo fare veramente... Che devo fare? Gliela devo fare... Gli devo fare io la fidanzata? Cioè, perché lì c'è scritto Crazy Girlfriend. E che devo fare io? Non ho... Non ho letto se c'erano delle istruzioni speciali per questo incarico professionistico. Facciamolo male questo, eh? Un po' male, tipo così. Beh, è bello! Magari non lo so, gli piace. Vediamo, eh. Allora, perché è nero? No. Rosa, no? Ma poi che sto facendo? Non ho capito cosa sto creando. Cioè, non... Facciamolo malissimo, a questo punto. Dobbiamo fare una fidanzata? Dobbiamo creare una fidanzata? È tutto sbbrato. Tutto il coso... Che è qua? Le orecchie? Ma sì, è questo? Bello! I denti? Ma come possiamo rinunciare? Che bocconcino! Che bocconcino! Perché è così? Vabbè, è un bocconcino, no? Cioè, è un bel bocconcino. È contento lui? È felice? Ma perché è un bel bocconcino? No? Cosa vi ho insegnato, ragazzi, tutti insieme? Forse anche nei commenti? No, grazie! No, grazie! Vedi, funziona benissimo! Arrivederci! Felice che è contento! Ah! Questa signora ci dice già che sarà generosa ed è un cliente VIP. Però noi dobbiamo rinunciare. Perché? Perché se la vogliamo fare, eh, ci parte la pubblicità. E vedi, ci dice che le pubblicità non ci sono. Perché la Ioni ha fatto... Però, niente. Mannaggia, però, eh! Qua mi si è ritorta contro la situazione. Vabbè. Eh, che cos'è? Bellissimo questo. Eh, la mamma mia! Devo creare questo signore. È difficilissimo questo lavoro. Ma niente, è troppo per la Ionio. Il modellatore. Con queste mani ci palpeggiavo ogni cosa. Vado... Io sono uno di quelli che vanno a frutta e verdura e toccano i cachi. Non è vero, non si fa, non fatelo. Adesso, guarda qui! Scavolocchio! E poi guarda qui... No, non davanti. Davanti, così. Scavolocchio! Questo lo facciamo male o bene? Dobbiamo decidere. È importante. Io direi male. Tipo, guarda, gli facciamo la scuccazza così, bella, precisa. Eh, un po' dietro, anche un po' così. Basta? Così? Volevo lasciare un po' di... Eh, me lo chiede di farlo bene questo, però, eh, mi sa. Dai, vabbè! Non andava bene così. Eh, no, il naso. Serviva il naso e la bocca. Però possiamo lasciarlo... Eh? Dai, sembra una maschera di ferro. Bellissimo, così. Eh? Questo cos'è? Ah, i capelli. E questa? No, questi sono altri capelli. No, andavano bene i primi. Vanno benissimo questi. Gli ho occhi. Un po' bruttino, eh, il signore. Così. Mo' servono gli accessori. Chiaramente gli dobbiamo dipingere la barba. Gliela farei rosa, perché è un cowboy, il signore. È un cowboy, però non è un cowboy di quelli classici. Lui è un cowboy clown. Capito? Eh, c'erano, eh. Va là? Cacchio se fa schifo. Fa impressione, letteralmente. È veramente brutto. Meno male che ha la barba. È più brutto di prima. Meno male che ha il cappello. È più brutto di prima ancora. Vabbè. Credo che qui non mi darà un bel punteggio, perché ho fatto veramente uno scherzo della natura. Però, eh, vabbè, quasi, dai. Quasi. Gli è piaciuto comunque molto. Sono contento. No, grazie, chiaramente. Beh, questo l'abbiamo in parla. No, grazie. Ah, ti piace la Francia, eh? Ci penso io. Viva la Francia. Sì. Viva l'Italia. Però, eh, qualsiasi paese ha i suoi pregi, immagino. Apriamo un po' di bocca qui. Ale. Un po' di uocchi. Così. Questo lo facciamo bene, dai. Un salutone agli amici francesi, così. Facciamo un bel lavoro simpatico. Eh? Così qua bisogna, vedi, qua devi sistemare perché tutta questa argilla, no? È un po'... Capito? Va a sistemare anche perché in questa fase sembra un mostro. Va bene così, no? Un po' il naso, un pochino qua, tipo così. Ah, là è. Va là. Un po' sopra pure. Ma mi sembra perfetto. Gli dobbiamo fare una faccia simpatica. Quindi mettiamo un pochino di così, no? Un pochino di questa verniciatura molto sicchettosa. È un po' ubriaco il signore. Eh no, è uno chef. Con i baffi. Questo è più italiano, però, eh. E i dentoni. E le orecchie. Un orecchio. E un occhio. Eh? Un mostro. Sono bravo a creare i mostri. La fabbrica di mostri del Dr. Lion. No, no, no. Va bene così, mi piace. Le sarà piaciuto? Non tanto. Chissà come mai. Cara dorme qui, non so se sentite dei versi strani. E lei? No, grazie. No, grazie. Mi sa che ha fatto anche una scorreggia. No, grazie. Gliel'avrei detto volentieri, ma purtroppo. Al seder non si comanda. No, lo sappiamo tutti quanti. Fatemi sapere. A sto punto tocca a voi. Se volete che io faccia altri giochi, anche qui su Lion Lab, per il cellulare, qualcuno, io ogni tanto lo posso anche fare. Pure perché trovare sempre video, reaction, non è semplice. A volte non... E poi io vorrei fare anche dell'altro. Infatti voi sapete che da stanza di là io la sto sistemando apposta per quello. Però ci vuole del tempo, ecco. Diciamo che ci vuole del tempo. Come al solito, un ricordino. Le storie del quartiere, ragazzi, stanno andando una bomba, grazie a voi. Io mi aspetto... Oso aspettarmi. Mi permetto di aspettarmi un risultato simile a quello delle storie del mistero, che sono andate una cannonata assoluta. Però ovviamente dipende da voi. Io so che è un bellissimo libro a fumetti, quindi vi consiglio di comprarlo. Vi straconsiglio di comprarlo, altrimenti non ve l'avrei neanche detto. Su questo potete essere tranquilli. Lion out!